Ringrazio il Presidente della Camera Fontana che ha deciso di sciogliere il giuridio d'onore che rischiava di non essere imparziale, come denunciato da due seri autorevoli commissari che si sono dimessi proprio per questa ragione. Vedo che Mulè, ma anche la Gran Cassa Meloniana in questo momento sta parlando di oltraggio alle istituzioni ma evidentemente sono fuori dal mondo, la verità è che si voleva forse far vincere facile Meloni ma perdere sarebbero state le istituzioni perché le istituzioni perdono sempre ogni qualvolta un Presidente del Consiglio viene in aula al Parlamento a mentire agli italiani.